Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Questi capelli... Io ci tengo particolarmente in quanto fanno di me un personaggio. A me danno sicurezza senza non ci potrei vivere, anche con dei capelli corti non so come potrei vedere. Sono Tommy, sono un batterista suonato a Mosca, Londra, New York. Ma soprattutto sul banco di scuola. Da quando ho quattro anni sono la batteria ed è la mia passione più grande appunto da quando sono nato. A dicembre del 2021 al Quirinale il presidente Mattarella mi ha nominato al Fiere della Repubblica proprio per la musica. Siamo una famiglia che vive di musica. E questo, essendo appunto una famiglia, ci ha permesso di viaggiare, di conoscere tanti luoghi. Lui è cresciuto così, insomma. La musica in tutti questi anni mi ha dato l'opportunità di viaggiare e secondo me mi ha fatto anche un po' bruciare le tappe. Proprio per questo il collegio, secondo me, serve per ritornare con i piedi a terra. Grazie a tutti.